le streghe di lenzavacche è un romanzo di simona lo iacono pubblicato dalla casa editrice eo ed è un libro in candidato al premio strega 2016 dico subito che è un bel libro nel senso che una storia che a me è piaciuta molto una storia ben raccontata ben descritta e splendidamente strutturata chi sono queste streghe di lenzavacche dove si trova lenzavacche lenzavacche è un paese in sicilia e le streghe come facile immaginare sono quelle che culturalmente siamo portati a pensare essere streghe cioè delle donne che hanno un comportamento diverso purtroppo sappiamo bene che la diversità è spesso vista come un qualcosa da tenere lontano per cui delle donne un po particolari ma semplicemente la particolarità può risiedere nel fatto che avevano voglia di leggere erano quindi considerate delle streghe ma queste streghe di cui parla il romanzo o meglio la prima parte del romanzo sono delle streghe contemporanee siamo nel 1938 con le trombe del fascismo che inneggiano a destra e a manca e ci troviamo in questo paesino siciliano la storia narrata da simona lo iacono si muove attraverso due binari la prima è quella narrata da rosalba la voce narrante che parla della nascita del proprio bambino felice che aveva la felicità negli occhi e nel modo di esprimersi pur essendo un bambino diversamente abile come diremo oggi attorno a lei a nosalba e a felice si muovono la nonna tilde e il farmacista il dottor musumeli questa è la prima il primo binario della storia il secondo binario che ritroviamo in ogni capitolo sono delle lettere scritte dal maestro mancuso a una sia di cui non ci sa nulla ma lo sapremo poi alla fine del romanzo di chi si tratta a una sia in cui descrive quel suo essere stato inviato a insegnare proprio a lenzavacche quindi abbiamo questa duplice storia narrata ripeto in maniera splendida in cui assistiamo alla prima al concepimento alla nascita e alla crescita di felice questo bambino reietto possiamo dirlo dalla società perché non è normale fra virgolette è il maestro mancuso che insegna ai bambini a ragionare con la propria testa cosa orrenda per il fascismo ma non solo anche ai nostri giorni pare che sia una cosa che non si possa fare e ha difficoltà a mettere in piedi la propria classe perché non si trovano bambini che la frequentino quindi le due strade a un certo punto convergeranno ma non è questa la fine del romanzo questa è la metà del romanzo perché poi inizia un'altra storia che illumina la prima parte per questo dicevo che si tratta di un modo di raccontare del tutto particolare una storia quella di raccontata da simona lo iacono che narra come dicevamo di diversità di accettazione di modo di essere altro sentite cosa scrive a un certo punto siamo al capitolo quinto d'altra parte va ripetendo il dottor mossumeli non è questo un mondo di fantasmi addomesticati di dissolvenze di stravaganze non siamo forse disonorati e tentatori senza pace forcuti come tante maligne presenze dell'oltremondo a guardarci gli uni con gli altri in una notte qualsiasi le nostre ombre proietterebbero gobbe sul dorso indecenze malattie medievali code acuminate e speroni sulla zucca la stessa ombra di felice alla fine ci somigliamo tutti simona lo iacono costruisce questo romanzo come dicevamo in una maniera del tutto particolare abbiamo all'inizio la seconda parte possiamo dire e alla fine la prima parte perché quando arriviamo alla metà del romanzo poi inizia una trascrizione di un manoscritto potremmo anche dire di manzoniana memoria in cui vengono tirate tutte le fila della narrazione cose che magari hanno rimasto un po' in sospesa tipo chi è il padre di felice? la sapremo in questa seconda parte tipo chi è la zia a cui il maestro mancuso scrive? anche qui lo sapremo una narrazione dal mio modo di vedere poderosa una cura dello stile del tutto particolare molto minuziosa molto cesellata e un modo di raccontare che incanta il nome felice per esempio viene ripetuto molte molte volte anche all'interno della stessa pagina quasi fosse un intercalare un nome proprio ma anche un augurio una speranza per il futuro per questo bambino che tutti rifiutano ma lui è felice è felice perché è amato e perché sa amare una bella storia che si basa sui libri cosa c'è di più tremendo per chi non vuole farci ragionare che scoprire che delle persone leggono i libri e se poi si tratta di un gruppo di donne che affondano le proprie radici nel 600 donne che leggono e che si innamorano di uomini che leggono allora capirete quanto è rivoluzionaria una storia del genere ambientata nel periodo fascista ma volendo fare le opportune distinzioni anche ai nostri giorni può essere una storia molto potente unico appunto che mi sento di fare all'autrice è che se usa un verbo così bello e desueto come glugluttare non può usarlo più di una volta perché altrimenti quasi lo depotenzia invece nel libro Le streghe di Lenzavacche lo troviamo due volte e c'è anche una terza volta in cui viene creato un neologismo con floflottare piccoli dettagli che comunque non inficiano di certo la bellezza di questa storia